buongiorno oggi vi presentiamo il tv lcd inno it a 26 pollici in offerta speciale sul nostro sito è un tv a 16 noni come potete notare ha moltissimi ingressi che vi mostrano subito tv tuner due prese scart uscita ingressi in alta definizione hdmi ingresso composito e ingresso audio inoltre su questa parte laterale abbiamo degli ulteriori ingressi sia audio che video il televisore in questo momento non è connessa l'antenna per cui la qualità di visione sarà bassa però io passando attraverso i vari ingressi possibili come potete vedere sono molti posso vedere sia la televisione sia i vari ingressi esterni per cui ora vado a collegare un dbd portatile attraverso gli ingressi compositi vado a selezionare l'ingresso video appropriato ovviamente gli ingressi video si ottimizzano automaticamente in base a quello che noi mostriamo per cui se abbiamo un ingresso stereo il televisore si mette in modalità stereo se colleghiamo un cavo hdmi si mette in modalità hd con un'immagine di qualità buona perché questo non è ancora hdmi potete notare sia il contrasto sia la luminosità e la definizione dello schermo e se lo volete vedere anche da diverse angolazioni potete vedere che resta buono sia frontale che un pochino laterale questo televisore è anche fornito di un completo telecomando per tutte le sue funzioni dal menu ai canali agli ingressi audio video alle funzioni audio video questo è un'offerta speciale sui nostri shop Axia grazie a tutti